Buonasera Manerba, come stai? Come state? DJ, stai bene? Come stai? Gazzo, qua ci sta comma 22.3, è un articolo del codice penale, comma 2 l'articolo 4 del comma 2 l'articolo 5. Buonasera, buonasera, perché sul prima fila io, ecco così, buonasera ragazzi, come va la serata? La chat procede bene? O vengono i troll a rompervi le scatole anche a voi? No perché, io non vi trovo queste serate. C'era un po' il cazzo stasera, però... No, 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 occhio che se arriva uno che conosco io che non vi dico il nick perché se gli si sta tenendo... No, ve lo dico io Camillo, ve lo dico io Camillo. Avete finito di star bene? Se arriva quello lì, facete, si porta dietro 10, 15 troll, eh? Occhio! Occhio, che ne stai parli, eh? No, tu qui in dati ma ne stai parli. Voi cambiate stanza, che lui vi segue e così mi fa arrostolarvi... ...vega tu il pigiama. Ma poi sconti... Ancora, quanto ti vorrei che ha seguito? Senti, però... Quanto ti... Quanto ti vorrei che si segui e parli? Eh, senta qui, senta qui... E' sotto malerba. C'è? C'è? È così... Eh ma qui non parla nessuno qua dentro, sono tutti tutti, non parla nessuno, qua non parla nessuno, mangiano qui, mangiano tutti, proprio non parla nessuno qua dentro, sono tutti a mangiare le spaghetti con le muccole. Quanto ti vorrei, secondo me, si deve essere innamorata, o di me o di te, due, quindi stiamo in sotto. Ecco, allora per tagliare la testa al capricordo facciamo tutti e due e facciamo il trio, facciamo il quattro cetra, uno è schiattato e facciamo il trio. Questo mi piace, no sono già morti tutti quelli che ha scattato cetra o sacramento. No, tutti quanti sono schiattati, sono schiattati tutti. Sono già schiattati tutti, eh va bene ma ce l'avevano non più di 90 anni, ma che scherzi. Gazzo sei innamorata di te, dici che sei simpatico, Gazzo. Eh sì, innamorata di te. Eh allora io mi faccio da parte, guarda che cazzo, c'è un cazzo che... Ah no, io... Io e te ci siamo sempre divisi tutto e non sarà questa la volta che non diviso lei con te. Bravo Gazzo, questa è la difficoltà, questa era pure la difficoltà, quindi quando ti vorrei uno davanti e uno di dietro, uno di dietro perché lo tengo più piccolino e... Gazzo ma che fai? Tanti fai, sembri un canguro, sembri un canguro dell'Australia. Continuo a cadere, continuo a cadere, ma che ne so, guarda. Dovevo a... C'è poco da ridere qua, adesso tu parla, fanno una bella. Eh ma non c'è mai, volevo dire a quanto ti vorrei che noi possiamo anche fare un trio. Siccome lui e Gazzo non ci siamo mai divisi tutti, però io cedevo anche il tuo amore a lui. No, io ti cedevo. Perché Gazzo, mio amico, io ti davo il tuo fisico al suo pisellone. Però se lui vuole comunque disunere tutta la situazione, noi possiamo anche comunque cercare di capire. Io posso mettere dove il culo e... Oh, c'è Vulcano, andiamo a trollare un po' Vulcano. Nove, dai. Ehm... Ti attacchi, albero? Eh ma potremmo cadere io, porca puttana. Eh, anch'io. Comunque... Non posso dire... Comunque... Non posso dire... Non è audio. Ma io sai che c'è, vedi? Penso una cosa... Oh, guarda! No, ma io pensavo che sei un po' sgonfiato. Invece... C'è... 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 C'è Vulcazzo. Oh, guaglio. C'è Vulcazzo. Ragazzi. Questo è un uomo di prima categoria. Vulcazzo. Rispettatelo. Che lo trollo solo. C'è Vulcazzo. C'è Vulcazzo. C'è Vulcazzo. C'è Vulcazzo. C'è Vulcazzo. C'è Vulcazzo. Eh, bevono troppo, cazzo. Bevono troppo. No, no. Ti vuoi dire di stare dietro. Allora... Sai che se mi puoi dire di stare dietro? Ti vuoi dire di stare dietro? Io... Hai ragione. Però io sono venuto qua perché ho visto... A vergia, vergia. A me devi seguire. C'è... Se sono con te... Ho capito. Su, ti devi stare dietro. Eh, gli sto dietro e glielo metto anche nel culo. E gli piace più. Oh, bravo. Si, 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 si. Guardano come... Eh, stai tranquillo. Guarda che albero lo sa anche lui. E poi con Vulcano... Sinceramente, ti dirò una cosa. Con Vulcano non spasso perché... C'ha il culo che pare un nido. E' sempre pieno di uccelli. Ma è... Molto rosso, vergia. No, perché... Io lo so un po' rosato. Vulcano... Anzi, adesso sai cosa faccio a Vulcano? Gli faccio un bel segui utente. Vado... Guarda... Lo seguo fino a... Dicca, guarda... Se ho letto con Vulcano... Guarda... Ti giuro... Sono tua amica a vita. Dai, Dicca. Ma lo trappano come una bestia, Vulcano. Lo... 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 Si... Lo... Pro... Posso... Matissi... no... Aнимità... A... ... A... A... ... domani vediamo se avviene bene come si è pieno? a noi cazzo volevamo fare un trio io e te il cazzo ladro ti vorremmo inculare tutta sera è una bella situazione ti pare buona ma a me? a te, a me che la faccia gli uomini con la testa pelata hanno il cazzo lungo, lo sapete? alberone alberone c'è il gazzo c'è il gazzo il resto che c'ha il libro delle istruzioni non ci sono problemi non ci sono problemi io posso anche fare i giochi io faccio i giochi all'orda è la cazzo che va così hai capito come funziona? vedi brunce dopo vulcano mi vedi brunce che ti trasporta subito ma io ti amo la che puttala è anche da bere cretino vediamo qualcosa sai perché si fa così quando uno ha paura e ci ha dato vediamo qualcosa non è successo niente la conoscenza sapevo dai come da che vedi lo fa chiuso ragazzi vulcano, ma allora fai chassi il tuo pro proprio fioi mi dici qua vulcano, vulcano bello come feo vulcano sono le 5 dita nella mano sinistra questo me ne dica pure a vostra ma non se capite le dita no ma no, io comunque volevo far l'amore volevo far l'amore io te e bruce vulcano lascerò stare non li tienano neanche cazzo Ma guarda te che foto da regolatore Ecco il bar, faccia più sul cazzo qua Poi vedere la tua faccia La tua umana, non mi nulla Vulcano, fa vedere la tua faccia tutta brufolosa Fai vedere la guaccia destra e la guaccia sinistra Che poi sono come le chiappe Vento e sinistra Albero, ti spiego Il verga è un grande uomo Perché se riesci a coinvolgerti a te E a qualche altro Il verga è un grande cazzo